Buongiorno, benvenuti a questa prima sessione della settimana di mercati in formazione, lunedì 22 giugno 2015, potrebbe essere una data storica per l'Unione Europea, soprattutto se la Grecia non dovesse trovare accordi e la Grecia uscire dal sistema euro. Quindi tanta tensione, fino a venerdì dopo l'ennesimo nulla di fatto dei 3000 meetings che hanno fatto, sembrava davvero vicino alla fuoriuscita, tutto volgeva in negativo, adesso invece c'è stata una nuova proposta durante il weekend, sembra che la nuova proposta sia anche piaciuta e questa è la reazione dei mercati, tolgo il disclaimer che spiega l'euforia presente in questo momento, eccolo qui in basso a destra vedete l'uomo con un piano, così intitola Bloomberg ovvero Tsipras Ed eccolo qui in questo momento, nuovi massimi di seduta, Germania, DAX più 3%, più 1,43 in Inghilterra, più 2, Futsi Mib, più 3,25, l'indice francese, quindi i mercati in questo momento dicono che l'accordo c'è perché un andamento così stanno scommettendo su un esito positivo di questa giornata che ripeto potrà essere veramente storia, siamo testimoni di questa situazione che tutti ci auguriamo comunque che possa avvolgere al termine più breve tempo possibile sia in un modo che nell'altro, che insomma vedete anche qui Grecia borsa vola sulla scia dell'ottimismo per un accordo più 7% l'indice greco e l'euro guardate qua sta venendo giù, l'euro invece fa l'opposto in questo momento e sui minimi di seduta, euro che su questo cambio direi che gli operatori non hanno preso posizione sia nei giorni scorsi quando con le borse europee che venivano giù e l'euro saliva, non di molto ma saliva e oggi l'opposto, quindi secondo me l'euro ancora non ha detto nulla quindi staremo a vedere nei prossimi giorni, aspettiamo e vi invito come sempre a non fare trading sulle news soprattutto in questo momento perché potrebbe essere altamente pericoloso e comunque usate gli stop, anche se volete provare a speculare su tutto quello che sta succedendo comunque fatelo con molta cautela, attenzione e soprattutto decisivi, importantissimi, gli stop andiamo a vedere nell'analisi intermarket, come già sapete perché avrete ricevuto questa mattina l'e-mail ma già venerdì nell'analisi di venerdì scorso avevamo visto che per oggi erano attese delle possibili inversioni a rialzo, ovviamente adesso c'è stato un boom in apertura e tra questi quindi oggi era attesa una possibile inversione a rialzo quindi già lo dicevo venerdì scorso i mercati europei, l'analisi grafica e i chinaci già preannuncia una possibile inversione a prescindere da tutto quello che poteva essere oggi durante il weekend, per il momento si sta confermando tale l'indice francese oggi era attesa un'inversione ed è più 3%, ovviamente attenzione perché adesso oggi si rischiava di entrare a dei prezzi troppo alti lo vedremo anche sulle indicazioni a rialzo per quanto riguarda i titoli del Futsimib quindi dicevo oggi la Francia insieme all'Italia che sembra voler ripartire da questo supporto dei 22.250 punti l'Inghilterra più 1,41 sul supporto dei 6.680 e anche la Spagna qui il grafico non è aggiornato non ci posso credere, guardate qui non so se è vero Russian Market questo profilo su Twitter che comunque è attendibile ma qui non so, pure lui ci ride sopra, la Grecia ha mandato i documenti sbagliati all'Eurogruppo non lo so, non lo so però veramente potremmo anche, sappiamo che in passato non è accaduto di tutto e di più quindi ora come ora, vedete, lo dicevo anche oggi in intervista durante, sul canale Agon Channel veramente una farsa a cui abbiamo assistito in tutti questi ultimi mesi che adesso possiamo aspettarci di tutto e di più non so se è una battuta da parte di Russian Market che propone molti rumors pure da lui arrivano, si riesce a tingere molte notizie, rumors e non lo so, sinceramente vedremo però effettivamente possiamo aspettarci di tutto e di più l'email che non arrivava, ricordate nei giorni scorsi, mesi scorsi insomma, tante, 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 tante situazioni davvero al limite dell'imbarazzo e quindi per oggi, quindi dicevo, sugli indici europei al rialzo dove invece c'erano il DAX, dove non era mai stato violato i supporti dell'ultimo periodo e quindi oggi c'è la decisiva ripartenza così come anche sull'Eurostox dove non era successo nulla, non c'era stata la violazione e quindi ha tenuto il supporto e da oggi si parte, riparte al rialzo la chiusura degli indici americani di venerdì è stata di cautela in vista del weekend greco e c'è stata quindi una chiusura al ribasso di mezzo punto percentuale, comunque si resta distanti da supporti più vicini, anzi a livelli in alto, le resistenze con i massimi di periodo, i massimi storici come per quanto riguarda Dow Jones e l'S&P 500 davvero dietro l'angolo, questo è l'S&P 500 e il Nasdaq 100 meno 0,41%, quindi il Nasdaq 100 in questo momento sta sovraperformando decisamente gli altri indici quindi l'euro già l'ho fatto vedere in questo momento è alle prese con guardate in basso a destra l'andamento dei titoli bancari greci più 20, più 15, più 14%, così come ci mostra il streaming in diretta di Bloomberg quindi andiamo a vedere adesso i titoli del Futsimib ovviamente in forte rialzo vediamo migliori e peggiori, chi sta facendo meglio? Popolare Mila Romagna, più 5, Mediolanum, più 4 Saipem, anche vedete ovviamente è un intanto io bisogna sempre guardare a destra l'andamento dei tweet tra i peggiori non c'è nessuno col segno meno tranne World of Duty Free che oramai è un titolo defunto in senso ovviamente borsistico parlando e si resta quindi faccio vedere intanto i file Excel così faccio prima in giallo evidenziati tutti i titoli dove attesi oggi ad una possibile inversione rialzista come per gli indici anche sui titoli azionari ovviamente si rischia di entrare troppo alti quindi attenzione agli ingressi prendendo però come riferimento come sempre il prezzo di apertura questo è l'andamento dal prezzo di ingresso a quello odierno come per Atlantia siamo più 1,29 meno 1,38 per Buzzi Unicem negativa ancora anche CNH ed Exor leggermente negativa siamo lì praticamente fin meccanica generali più 0,90 mediaset più 0,55 0,78 0,40 contrarian 2 1,33 popolare e ancora sui prezzi di partenza anche per quanto riguarda Moncler quindi anche qui e come dicevo venerdì non è detto che dobbiate seguire tutte le indicazioni si possono anche magari farne solo alcune e quindi scegliere tra le tante opportunità che offre l'analisi ai chi nasce bene a questo punto il Bund ho dimenticato andiamo a vedere vi dico esattamente l'andamento del Bund che è indeciso ribasso a 151,13 151,14 quindi l'obbligazionario sta ritracciando un'ulteriore ovviamente in contrapposizione al forte leuforia che c'è in questo momento sui mercati europei a questo punto solitamente in questi casi si dice risk on ovvero avversione a rischio propensione a rischio in questo momento c'è da parte dei mercati che sperano di riprendersi e vedremo un po' come andrà a finire i futures americani più 0,80 mini S&P 500 e mini Nasdaq e anche il mini Dow Jones sono tutti più 0,80 più 0,75 quindi anche dall'America oggi è prevista una importante inversione un'importante apertura al rialzo per quanto riguarda la strategia intraday ovviamente in attesa di a questo punto visto la partenza al rialzo un primo segnale a ribasso e vedremo quando e se ci sarà perché può anche essere che il mercato oggi non ritracci per nulla considerato il momento tutto quello che sta accadendo e quindi nessuna indicazione a ribasso comunque se avverrà i clienti del servizio via sms o via whatsapp saranno notificati mentre vedete in basso a destra l'indice di Atene segna un più 7% io vi ringrazio per la cortese attenzione rimando all'appuntamento delle 15.25 con la seconda sessione di mercati in formazione seguiremo l'aggiornamento appunto delle borse europee e l'apertura in diretta di Wall Street buona giornata a tutti e soprattutto buon trading e mi raccomando utilizzate l'e-stop arrivederci e